Il premio di Augusto Sartori Con un applauso per Tadej Fogacar Ringraziamo ben tanto Augusto Sartori, assessore Grandi Eventi e Turismo Regione Liguria Tadej, sembra che i due ritori con te sul stage sono i tuoi amici Oh, sì, come posso dire, questo podium è uno dei migliori podium che ho mai visto e, sì, both Michael e Jasper sono davvero, davvero buoni amici Quindi, sì, sono davvero felice che ho potuto perdere E, sì, ora, quando eravamo al podium, è stato un momento più bello in mia vita, vorrei dire E, sì, c'è un modo di vincere? Sì, sì, c'è un modo di vincere oggi Ho avuto veramente buoni legi Ma, sì, tutti vogliono vincere qui e tutti aspettavano cosa stiamo fare E, sì, io devo dire che sono davvero orgoglioso del team Il team funziona davvero bene e mi ha fatto in una buona posizione per Cipresa e Poggio E, sì, abbiamo fatto una buona posizione molto forte Ma, oggi, tutti gli altri è stato davvero molto buoni E, sì, non ho potuto fare la scuola nel final di Poggio Nel ultimi chilometri Quindi, sì, ho provato a fare il mio migliorno nel sprint E, sì, è stato un lavoro davvero buon team Ma, sì, l'anno prossimo, ci siamo ancora e proviamo di vincere Sì, perché sei venuto il quinto, il quinto, il quinto, il quinto questo anno Sì, perché sei venuto il quinto, il quinto, il quinto, il quinto Sì, spero non il quinto Sì, spero che, sì, ho capito Sì, sembra che, sì, sì Sì, sembra griglioso, ma voglio vincere questa rossa E non sarò felice con il quinto place Grazie molto Grazie 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 con Matthews, sono dei Poggio